Ciao a tutti amici media elettronica che non ti serve, da un po' che non ci vediamo e torno a darvi fastidio con un Casio G-Shock in particolare, grazie Albi per il regalo letteralmente meraviglioso, GMB2100 quindi il famosissimo 2100 però in acciaio, stile B5000, tanto per intenderci all'interno della confezione troviamo la solita roba qua ho messo le maglie che ho dovuto togliere per adattarlo al mio polso, non eccessivamente grande la solita scatola ritoccata, quindi quella con, tanto per intenderci, le sfumature grigie all'interno della quale dentro un blister di plastica probabilmente molto riciclata troviamo questo fantastico e meraviglioso AIA B2100 allora lasciate che vi dica qualcosa di questo orologio stiamo parlando ovviamente del full metal con fondello a vite trattamento diamond like carbon, quindi di fatto praticamente indistruttibile se non fosse particolarmente anche esposto ai graffi e ne so veramente qualcosa copertura della cassa che appunto è già in metallo in acciaio con questo effetto satinato tipico di questa serie di case quindi delle serie B5000, B2100 eccetera eccetera un bracciale che è pressoché lo stesso che troviamo sugli altri modelli questo è B5000 ma lo metterò a paragone dopo la classica fibia e chiusura molto bella e molto curata della case G-Shock e poi soprattutto tanta tantissima tecnologia stiamo parlando di un orologio che costa 549 euro di listino l'ho trovato ovviamente con un po' di sconto praticamente ovunque come classico per i vari G-Shock questo è un orologio cerco di farvelo vedere un pochettino più da vicino che si differenzia in particolare questo modello dall'originale perché ha questi indici letteralmente meravigliosi che riprendono il colore delle lancette direi un viola blu cangiante a seconda ovviamente dell'inclinazione guardate che meraviglia e della tipologia di luce che si riflette fondo del quadrante nero schermetto in negativo e ovviamente poi ve la farò vedere meglio una luce non particolarmente efficace ma quanto basta per poter vedere l'ora in qualunque condizione manca l'arancetta dei secondi come sul B2100 originale funzione ovviamente ricarica solare e funzione bluetooth quindi connettività bluetooth non ricezione da orologi atomici l'orologio ha pressoché le medesime dimensioni del 2100 in resina come potete vedere non cambia praticamente nulla né dal punto di vista delle dimensioni né dal punto di vista della forma né dal punto di vista del quadrante e ancora del cinturino viene semplicemente stilizzato ovviamente il cinturino in acciaio ovviamente se trate in un cinturino pazzesco come vi dirò a breve però la forma di questi orologi è pressoché la stessa per quanto riguarda invece lo spessore dei due orologi stiamo parlando di circa 2,5 mm in più per quanto riguarda la versione acciaio e questo è dovuto ovviamente dal fondello a vite che troviamo sul B2000E100 mentre invece questo orologio qua in particolare 2100GA2100 normale ha una cassa sì in fibra di carbonio ma ha il fondello con le classiche 4 viti le dimensioni sono praticamente identiche si tratta di un orologio di poco più di 41 mm che sta bene direi praticamente su qualunque polso la cosa straordinaria di questo bracciale che ha tante tantissime micro maglie tra parentesi super regolabili grazie all'interno a dei perni che sono ovviamente in stile case di shock con le molle al loro interno quindi basta pochissimo per farli uscire dalle sedi e togliere le maglie del vostro bracciale l'orologio a me fa impazzire grazie veramente ancora Albi per il regalo letteralmente meraviglioso si tratta di un orologio creato per durare come sempre praticamente tutta la vostra vita e forse anche quella di figli, nipoti e pronipoti perché è un orologio che riprende quella filosofia originaria esattamente come il B5000 che io tanto amo che vi metto qua di fianco riprende, stavo dicendo quella filosofia originaria dei G-Shock ovvero il DV5000 del 1983-84 usciva ovviamente come vi ho fatto vedere in altri video con una cassa totalmente in acciaio poi ovviamente dato che i prodotti degli anni 80 erano troppo belli per essere veri hanno iniziato a risparmiare anche i giapponesi e hanno poi sostituito quella che era la cassa piena in acciaio ovviamente con una plastica in resina come sappiamo tutti questo fa in modo che questo orologio sia totalmente indistruttibile con una resistenza all'acqua sulla quale direi che non ci niente da dire perché ha un fondello a vita e delle guarnizioni rinforzate laddove troviamo i vari pulsanti pulsanti che sono ovviamente il primo in alta a sinistra per il set dell'orologio la funzione MOD invece in basso a sinistra quindi come sempre doppio fuso orario funzione GMT ovviamente lo stopwatch quindi il cronografo ovviamente il timer 57 allarmi e poi la funzione normale per quanto riguarda il tasto in basso a destra si tratta ovviamente del tasto con il quale vi muovete all'interno del menu invece il tasto in alto a destra e la luce non particolarmente potente come potrete vedere però direi più che sufficiente per poter come vi dicevo prima visualizzare in qualunque condizione la luce cos'è che mi fa impazzire di questo orologio? innanzitutto il quadrante è di una bellezza incredibile i colori sono unici mai trovato niente di simile su altri G-Shock se non su questa serie devo dire che hanno fatto un passo da gigante rispetto al 2100 base chiamiamolo così anche se come potete vedere i due orologi anche come dimensioni delle lancette e degli indici sono assolutamente identici ripeto assolutamente identici certo qua sulla destra troviamo un piccolo LCD in negativo un pelino più difficile da leggere in assenza di luce se no direi praticamente impossibile però le lancette luminascenti aiutano almeno per più di qualche minuto una breve riflessione voglio farla ovviamente sulla qualità costruttiva di questo orologio esattamente come per il B5000 troviamo delle viti che uniscono il copricassa alla cassa in acciaio ovviamente sono viti specifiche troviamo un bracciale totalmente pieno quindi non abbiate paura di utilizzarlo di portarlo sempre con voi in qualunque condizioni al mare in montagna eccetera eccetera e troviamo poi un vetro minerale quindi niente zaffiro neanche su questo modello aggiornato del 2100 le funzioni sono quelle classiche dei G-Shock o quantomeno degli ultimi G-Shock quindi quelle che vi ho appena detto e poi le classiche caratteristiche 200 metri di profondità resistenza agli urti anticorrosione eccetera 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 insomma un orologio che è stato pensato e creato a differenza di quelli con la cassa in plastica non solo per durarvi tutta la vita ma per durarvi tutta la vita pur maltrattandolo e io vi ricordo che ho dei 5000 degli anni 80 e dei 5006 degli anni 90 che sono assolutamente perfetti senza parlare del mio straordinario GMV 5006 che praticamente chiedo scusa 5000 che mi porto dietro dal 2012 Casio e G-Shock sia i casi normali sia i casi G-Shock sono orologi che durano letteralmente una vita ora ho provato a ovviamente fare un confronto con gli altri orologi totalmente acciaio della G-Shock compreso questo che adesso vado a togliermi che è una modifica questo voi lo sapete benissimo un orologio che io amo in modo incredibile si tratta fondamentalmente del B5006 quindi un orologio che è uscito per pochissimo tempo non è neanche più in produzione fondamentalmente la Casio impazzita andate a vedere il mio video ha messo il medesimo modulo che troviamo sul B5000 in questo orologio con la differenza che questo costa quasi 600 euro questo invece l'avevo pagato su Amazon 130 euro quindi ha fatto questa pazzia ovviamente cambia molto perché come dicevamo prima questo non ha il fondello a vite ora quello che volevo farvi vedere però è la qualità costruttiva io qua ho installato un kit ovviamente cinese che è di una qualità decisamente inferiore rispetto all'originale del B5000 vi faccio vedere il B5000 questi due sono orologi che pesano abbastanza siamo attorno ai 160 grammi orologi letteralmente come vi dicevo indistruttibili il peso denota una qualità costruttiva e dei materiali incredibili altrimenti il passo successivo ovviamente è andare sul B5000 però il TWA quindi la versione diciamo Gundam del caso G-Shock la differenza di prezzo comincia a farsi sentire quindi tra quelli che possiamo oggi considerare ricordiamo il 2100 si trova tranquillamente attorno ai 90 euro il B5000 nel caso in cui riuscisse a trovarlo ovviamente non questa versione ma quella con il cinturino originale il cinturino originale il medesimo del B5000 130 euro poi 549 di listino sempre 549 di listino 1600 euro di listino in salita la differenza fondamentale è che questo orologio oltre ad essere un'edizione limitata è interamente in titanio e quindi pesa nulla ve lo posso assicurare e ha il vetro zaffero tornando a questa splendida creatura grazie ancora albi che me lo ha regalato terza volta cosa posso dirvi posso dirvi che il 2100 è un orologio che piace tantissimo oppure non piace per nulla lo si apprezza portandolo perché è uno dei pochissimi orologi analogici così tanto leggibili della G-Shock le lancette sono molto chiare sono pressoché perfette luminosità più che soddisfacente ma soprattutto le dimensioni ti consentono di leggere al volo veramente l'ora con l'abitudine non si fa più caso all'ingombro di questo orologio che comunque c'è non c'è niente da dire ma soprattutto portando questo orologio ci si rende conto che è bello io non l'ho apprezzato quanto avrei dovuto apprezzarlo probabilmente ma forse perché mi ero un po' scassato i cosiddetti per il fatto che ce l'avessero veramente tutti in quel periodo oggi ne vedo forse un po' meno sto cominciando a riapprezzarlo molto e secondo me sta diventando anche se a distanza di pochissimo tempo sta diventando davvero un classico come è possibile che un orologio a pochi anni in distanza dal lancio diventi già un classico perché riprende le forme ovviamente da un classico e soprattutto è un orologio che sta bene sul 14enne sul 40enne sul 90enne il bello del 2100 cosa che ho apprezzato solo in seguito è che sta veramente bene al polso di chiunque questa meraviglia carrozzata di acciaio inossidabile è un orologio che si fa notare tantissimo lo portate in questi giorni te lo guardano tutti la gente si chiede che tipo di orologio sia questa versione esiste già da parecchio tempo tra parentesi su aliexpress si trovano anche le cover per rendere il vostro il vostro 2100 come questo però se voi immaginate di applicare qua sopra un copricassa in acciaio ovviamente vi rendete conto che le dimensioni aumentano e non di poco stiamo parlando di circa 3 mm e mezzo in tutto questo orologio è un orologio che mi ha fatto un po' come dire rinascere la passione per il 2100 ne ho diversi io ho il normale ho il bluetooth ne ho un altro di un altro colore insomma è un orologio quello del cubo di rubik è un orologio che io ho comunque apprezzato ho comprato ho indossato questo in particolare l'ho indossato tutta quest'estate ed è straordinaria la funzione bluetooth per tutte le ragioni che sapete la nuova applicazione G-Shock Casio Watches è eccezionale si può modificare praticamente tutto quello che potete di questo orologio si possono inserire i promemoria inserire le varie sveglie gli allarmi insomma sincronizzare le lancette nel caso in cui non fossero sincronizzate bene davvero un'applicazione stupenda con questo è esattamente la stessa cosa ma unisce alla praticità resistenza infinita del 2100 in resina e fibra di carbonio ovviamente la resistenza dell'acciaio l'eleganza dell'acciaio con questa particolare satinatura tipica esattamente identica al B5000 quindi questa sfumatura un po' opaca sulla parte superiore del copricassa e poi tutto il resto si alterna in un gioco di riflessi e contro riflessi con una lucidatura a specchio che come ho detto già nel video di recensione del B5000 non ha assolutamente nulla di invidiare a orologi che costano 10, 20, 30 volte di più di questo stiamo veramente parlando di un orologio eccezionale la Casio la G-Shock mantiene la qualità costruttiva da sempre ma d'altronde i giapponesi sono quasi sempre così sulla Seiko non è questo il momento di parlarne però diciamo che se proprio dovessi scegliere una marca o due marche che non hanno mai cambiato la loro qualità costruttiva non potrei che ovviamente scegliere Casio e Orient che sono anni che ci deliziano con una qualità costruttiva assolutamente invidiabile questo orologio è un orologio questo qua adesso è un orologio comprato andate a vedere il video insomma oramai quasi 6 anni fa il B5000 Iden con patate questo è un pochettino più recente ma avete visto gli altri mirologi che hanno 10 20 o 30 anni e sono se trattati bene sempre perfetti e poi come tutti i casi di shock del mondo questo esattamente come tutti gli altri ha una disponibilità garantita almeno per 20 anni dei pezzi di ricambio che sia che siano i cinturini che siano i vetri che siano il quadrante e così via quindi un orologio che si può riparare anche se ovviamente non vi si romperà mai ma nel caso sappiate che potete anche ripararlo un orologio che mi è piaciuto moltissimo tutta la serie in realtà di tutta tutta quanta la serie dei Casio G-Shock di acciaio stile MRG tanto per intenderci mi fa letteralmente impazzire si tratta di orologi che sono pensati di